Il centro di oncomatologia pediatrica di Rimini è un'eccellenza, è un punto di riferimento per il territorio nella cura dei tumori in età pediatrica. L'esempio di un bambino che è riuscito a guarire e che ha una storia veramente bella da raccontare è quella di Matteo, che adesso è diventato un ballerino. Sì, Matteo è stato curato presso il nostro centro quando era un bambino, era un bambino piccolo, era già un bambino che danzava e aveva già una fortissima passione per la danza. Durante il periodo in cui è stato costretto nel letto d'ospedale per i cicli di chemioterapia molto prolungati ha dovuto rinunciare alla passione per la danza. Però questo amore evidentemente è rimasto in lui, tanto che quando è guarito ha ricominciato a danzare e oggi danza all'Accademia di Vienna, quindi sta facendo il suo percorso come ballerino sperando poi di diventare professionista. Quali sono i tumori che colpiscono principalmente i bambini e che percentuale c'è di guarigione? I tumori variano in base alle fasce d'età, comunque in linea di massima sotto i 14 anni i tumori più frequenti sono le leucemie, i tumori del sistema nervoso centrale e i linfomi. Per i bambini più grandi prevalgono i linfomi e i sarcomi, i tumori dei tessuti molli. Comunque per tutti la percentuale di guarigione è dell'80%. Voi che cosa fate nel vostro centro? Eroghiamo chemioterapia, vengono sottoposti quando necessario di interventi chirurgici, li sosteniamo nel loro percorso, cerchiamo di aiutare le famiglie e una volta guariti cerchiamo poi di continuare a seguirli nel tempo per avere la garanzia di aver lasciato liberi al mondo delle persone completamente guarite. Quanti sono i bambini che avete curato fino ad oggi? Più di 200. Di questi quanti ne sono guariti? Tanti, sicuramente più dell'80%. Tanti, sicuramente più dell'80%.